Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così direttamente l'errore riguardo a Fortnite che non si avvia e non funziona proprio, quindi in questo caso puoi risolvere direttamente facendo una verifica oppure andando direttamente nella sua cartella, quindi in questo caso vai direttamente nella libreria, tre puntini, vai su gestisci, entra direttamente nella sua cartella ovviamente se non vuoi fare questi passaggi della cartella puoi direttamente cliccare verifica e fai la verifica al gioco la fai più volte finché non si avvia e poi riavvia il sistema operativo andiamo direttamente su Fortnite Game, Binarys 1.64, andiamo fino a giù fino a trovare così le applicazioni del Fortnite Client prima erano 5, ora ne sono solamente 3, eliminiamo così le 3 applicazioni entriamo anche nella cartella dell'easy anti cheat, ci clicchiamo sopra due volte ti consiglio di guardare l'altra guida su come installare completamente l'easy anti cheat come puoi vedere qua ho installato direttamente un easy anti cheat, quindi ho creato direttamente un percorso file quindi se ci clicco più volte, me lo installa automaticamente quindi una volta installato io posso anche cancellare così questa cartella chiudere un attimo qua vado su app data, quindi scrivo qua esegui per cento, app data, per cento e faccio ok va in app data, local, scendi fino a giù fino a trovare la cartella di Fortnite Game eccola qua sono all'incirca 1,50, quindi sono 1,5 giga, quindi 1,5 giga, quindi 1 giga e 500 megabyte cancello così questa cartella svuota anche il cestino e svuoto il cestino una volta fatto non mi resta che fare la verifica al gioco, 3 puntini gestisci verifichiamo il gioco e lo ripariamo una volta fatto e lo riparo con un ruolo in Italia sarà un' versione comunque fatto prima di avviare il gioco vai direttamente sui tre pontini e entriamo così nella sua cartella vai su fortinet game binani sui 64 scendi fine ovviamente clicca più volte l'isi anti cheat eseguito anche come amministratore torna indietro vai su fortinetelauncher.exe mostrate le opzioni proprietà firme digitali clicca il primo visualizza certificato installa certificato fai avanti e fai fine e fai ok compatibilità modifiche impostazioni dpi elevati sistema avanzato dpi programma e facciamo ok facciamo applica chiudo qua e ora mi raccomando fortinet va avviato direttamente nel launch di epic games l'opzione di lancio io ho messo trattino d3d 11 per avviarlo come modalità di rendering direct x 11 e adesso non mi resta che avviare il gioco diciamo è c'è connessione in corso mi sta rifacendo di nuovo l'aggiornamento perché ho cancellato la cartella in app data connessione in corso e il gioco si è avviato senza nessun problema ovviamente in alto a destra ci sono moltissime guide una playlist intera su come risolvere tutti i problemi su Fortnite e soprattutto anche l'Easy Antichit su come installarlo quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao grazie a tutti